Allora, adesso dopo aver fatto un po' di blu per digerire si torna sull'ADH e... boh, inizialmente riuscirò a fare spettacchi di primo pezzettino se continuo a sbagliarlo Esattamente, no? Allora, e questa qui è andata Adesso è qua che sbaglio tutto Perché questo passaggio scordice va bene? Va bene Ecco qui, qui Vabbè, piano mi è andato Safe Ma che abbi di diritto ho fatto bene bene Non c'è... ... ... ... ... ... non mi grippano però i pedali sulle scarpe adesso non c'è un pezzo che odio, proverò a farlo non c'è un pezzo che fa adesso proviamo la variante gialla ma poi ritorniamo sulla nera per la fine in realtà faccio santo questo step down che è molto più bello dell'alto questa rampa spiegata imbagnata me la evito ah qui tuttavolta so che dovrei frenare ma non lo faccio mai ho trovato un po' la linea tuttavolta grazie grazie